Il centro della casa dove si riunisce la famiglia, dove c'è il calore della famiglia è sicuramente la cucina. Avere una bella cucina, soprattutto preparata da mani sapienti, da mani che fanno questo mestiere, dove puoi vedere anche il percorso di questa cucina è sicuramente importante. Noi siamo con Cucine Bucolo, Bucolo che anche quest'anno si trova per noi sposi con cucine che sono fatte su misura. Fatte da noi artigianalmente, qui abbiamo presentato una cucina in ciliegio, tutti gli interni sono tutti in multistrato, quindi cucine fatte da noi in vari modelli e quant'altro, vari modelli classici, moderni, stile country, all'esigenza della gente. La produzione propria ha sicuramente un vantaggio, quella di avere, insomma siete voi che le fate, quindi andate sul posto, andate a sfruttare tutti gli spazi per come lo ritiene giusto il cliente, per la qualità. Ci sono per esempio delle case che sono fatte nuove, c'è quindi tutto il moderno, però magari trovi una casa un po' particolare con degli angoli, con dei particolari. Particolari dove noi andiamo a sfruttare. Tutto quello che si può realizzare voi lo fate tranquillamente, i tempi di consegna non sono tanto lunghi. Siamo ben aggiornati, quindi non siamo tanto lunghi, ecco siamo immesti nel lavoro da una vita, diciamo da 40 anni di mestiere, grazie al padre e lo saluto, quindi cerchiamo sempre di fare del bene in questo senso e tenendoci aggiornati un po' su tutti gli accorgimenti per quanto riguarda la cucina. E per venirvi a trovare? Siamo a Barcellona, in via Kennedy, abbiamo anche un nuovo showroom dove abbiamo aperto anche da poco, da un annetto dove troverete comunque tanti modelli di cucina in diverse soluzioni.